Dai undici ragazzi, video brevissimo, diciamo giusto un piccolo aggiornamento sulla situazione, luce in camera mia Stava per prendere fuoco questa cosa ragazzi, non so se poteva prendere fuoco oppure no, oppure sarebbe solamente esplosa Però, sento che se sta per rompe tutto il vetro, quindi potrebbe cadere Perché, guardate che è successo ragazzi, mentre stavo guardando un film, di solito tengo sempre la luce spenta Invece questa volta c'avevo la luce accesa, non so il perché Forse perché non mi fregava niente del film e stavo a fare col telefono Cioè stavo a fare l'esportazione del video col telefono Mentre stavo a fare questa cosa, sento la puzza di bruciato, puzza di fumo Che cacchio è? Guarda su, vedevo tutto il fumo della lampadina che usciva Infatti potete vedere nera Vabbè quella intera, non è che potete pretendere che ce l'ha messa a fuoco col telefono Perché devo andare via, non faccio in tempo a mettere cavalletto eccetera eccetera E poi non c'ho manca la luce Vabbè insomma, ha preso fuoco questa lampadina E aspetta un po' No, non si muove Il rumore che fa dentro Diciamo non è buono, però vabbè Vabbè insomma, che volevo dire niente Pensate se io avessi lasciato la luce accesa e fossi andato Che ne so Fuori casa per qualche ora e poi fossi tornato troppo in ritardo Cosa sarebbe successo? Eh? Potete esplodere tutto quanto? Potete andare a fuoco tutta la mia collezione? Guardate, guardate, guardate Pensate se mi prendeva a favore Non ci voglio manco pensare Più che altro sai qual è il fatto che Molte volte tipo faccio gli spacchettamenti degli ordini eccetera eccetera E butto sempre le cartacce, i cartoni per terra Come avrete visto negli unboxing Quindi pensate Magari poteva casca tipo una coscia di cosa bollente Cacchio, ne so Magari si squagliava il cartone Cominciava a prendere fuoco quello Che si collegava a quell'altro Prendeva il legno, prendeva il coso Se ne incendiava tutto Meno male che non è successo Poteva bruciarsi tutto Tutto quanto Oppure Non sarebbe successo nulla Cascava la cosa Dal tempo che da lì Dalla lampadina Cascava giù, si freddava E quindi non sarebbe successo nulla Non lo so questo Non so come funziona il bruciamento La bruciazione Il bruciaggio di una lampadina Vabbè insomma Morale di questo video Che tanto non pubblicherò mai Era che ho bruciato una lampadina E devo comprare una lampadina nuova Che palle Vabbè Like, suscribe, share E tutto quello che volete Saluti dalla lampadina bruciata E dalla puzza De fumo De Puzza de Tipo saldatura Quando saldi i cosetti De Vabbè ma che ne sapete Vabbè Like, suscribe Attenzione No, non si è rotta Eh forse si Io ho dato Il colpo di gra Che è cascato Non so cosa siano Forse è plastica squagliata Ah pure il dentro Non so se lo vedete Guardate come è ridotto Pensate un po' che lampadina De merda Comunque vabbè Like, suscribe, share E tutto quello che volete Iscrivete Sul Qu steal Lo Lo